Buongiorno a tutti, oggi la Chiesa celebra la bella festa della Beata Vergine Maria del Santo Rosario. Questa festa ci rimanda a quella vittoria che il mondo cristiano ebbe nel 7 ottobre 1571 contro l'avanzata degli ottomani. Da allora in poi nel popolo cristiano si diffuse la protezione e l'aiuto della Vergine Sanda attraverso la sua intercessione di madre e maestra. La festa odierna, cari amici, ci rimanda al dono bello e singolare di Maria. In Maria abbiamo ricevuto una madre, una madre attenda e premurosa i suoi figli. È la festa della madre e la festa dei figli. Viviamo questo giorno con un clima di serenità, di amore, di pace perché Maria ama la nostra città, ama il nostro popolo, ama la confraternita, l'arci confraternita che si impegna a promuovere la devozione alla Vergine del Rosario. E Maria come ci ama? Ci ama e ci dona Gesù e il Rosario. Il Rosario che è una preghiera antica e sempre nuova, l'arma contro le insidie del tempo presente. Facciamo ritornare la recita del Rosario nelle nostre famiglie, nelle comunità, sui luoghi del lavoro, dove c'è la crisi, la malattia, la sofferenza. Affidiamoci a Maria nella preghiera del Rosario e Maria ci otterrà tutto ciò che il nostro cuore di più bello e di più nobile desidera per questa vita terrina ma soprattutto per la vita vera che è la vita eterna, cioè nella comunione della Santissima Trinità. E allora buona festa a tutti, che la Vergine Santa benedica la nostra città di Sansevero, le nostre famiglie, soprattutto quelle dove manca il dialogo, la crisi, la difficoltà, benedica gli ammalati, gli anziani, i giovani e bambini. Doni a tutti la forza e la speranza di un mondo nuovo. Che Maria ci ottenga grazia e misericordia. Buona festa a tutti!